Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! E' bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi mamma mia sicuramente avrete visto il mio post su Instagram di ieri pomeriggio ma c'è davvero molto da dire oggi riguardante l'evento Kattus E' il robot Dogus, attenzione a non convondersi, non convondersi con l'assonanza dei nomi E' stato scoperto ragazzi il principio di costruzione del robot gigante che andrà a combattere il mostro che tuttora si sta aggirando nel mare intorno all'isola di Fortnite Con tanto di castello di picco polare ancora sulla schiena Nel video di oggi infatti parleremo e vi spiegherò tutto quello che è stato scoperto nel robot gigante Ma anche due secondi di nostalgia faremo un leggero passo indietro subito a inizio video per Omaggiare uno degli eventi più Importanti di Fortnite e se avremo tempo anche un bel po' di leaks da farvi vedere per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte Di Fortnite Prima però volevo ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator Xiodarone Grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop quando scioppazzate di prepotenza Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live Ma prima E dai che lo sapete raga la domandina ve la devo fare Ci tengo tantissimo che mi diciate i vostri commenti qua sotto Li leggo, li leggo e mi fa un sacco piacere che li scriviate Domanda molto molto interessante Ma qual è stato il tuo evento preferito da quando giochi a Fortnite? C'è chi ha iniziato nella season 7, c'è chi ha iniziato nella season 3, nella season 1 Ne avete sicuramente visto qualcuno Il vostro preferito Qual è stato? Il mio ragazzi mi è rimasto nel cuore L'evento del lago In cui, ricordo benissimo, eravamo in live Il cubo fece l'ultimo movimento dal molo Sprofondò nell'ex loot lake E quando sembrava che tutto fosse finito D'un tratto Completamente il lago divenne rimbalzante Prese il colore viola E ci si poteva saltare sopra Furono 4-5 giorni di pura ignoranza Mi rimarrà per sempre nel cuore Ma quindi Ciocio Levande E bando alle ciance Andiamo subito subito ragazzi A fare un salto indietro nei ricordi Ieri 30 giugno Era il primo anniversario Del lancio del razzo ragazzi Importante questo evento Perché ha dato vita a tutto quello Che conosciamo finora di Fortnite La storyline è tuttora collegata Al lancio del Rocket Quindi un applauso ragazzi Alla genialità ovviamente Dello staff di Epic Games Per aver studiato E per continuare dopo più di un anno Una storyline che a parer mio Non troveremo mai più In nessun altro videogioco Quindi tanta tanta roba Un ricordo al Rocket Era assolutamente d'obbligo Ma andiamo avanti E parliamo finalmente Del nostro evento Kattus Factory dei robot Tutto quello che bisogna capire Tutto comincia ragazzi Da questa immagine Di qualche giorno fa Che viene spoilerata Prepotentemente Dai leakers mondiali Ve ne ho parlato anche io Dove si vede benissimo Un fortbite che ancora non è disponibile Da recuperare Che dice Accessibile Utilizzando lo spray Bot Quello che ci danno nel post battaglia Nella robot factory Parte il delirio generale Nel mondo dei leakers Di youtube Di reddit E di tutti i forum Della community Che cavolo è questa robot factory E' ovviamente L'impianto a pressione Viene ovviamente poi Spoilerata subito dopo Anche l'immagine Del dentro Dell'impianto a pressione Noi nel battle royale Non possiamo ancora vedere Le porte aperte Ma sappiamo in realtà Benissimo Che sotto ci sono Questi tre livelli B1 B2 E B3 Con delle turbine Enormi E uno spazio Davvero Assurdo E gigante Ragazzi Ci si può entrare Con un glitch In creativa Da lì Cominciano anche I primi Le prime ipotesi I primi leaks Riguardanti Quest'immagine Del nostro puzzle Dei fortbite Completo Come vedete Nel cerchio C'è la testa Di un orso Gigante Che è un robot Con Degli elementi Che lasciano Tranquillamente Intendere Si tratti Dell'impianto a pressione Da qua ragazzi Si associa Che L'impianto a pressione Diventerà La fabbrica Dei robot E la fabbrica Dei robot Del robot Servirà Appunto Per costruire Dogus Che sarà Il robot Enorme Che andrà A combattere Catus Che sarebbe Il mostro Di cui vi anticipavo Poco fa Ma cosa succede Ieri Alle 16 precise Arriva questo tweet Da un leakers Famosissimo Che dice Alle 4 am Alle 4 am Alle 4 del mattino Scusate Alle 4 am E' stato decriptato Un pack Che contiene Un piede Gigante Di Dogus Dogus Come ci si dice Tra parentesi E' il nome interno Del Del robottone E Guardate Che meraviglia Ragazzi Il piede E' questo Visto così Potrebbe sembrarvi Semplicemente Un piede Robotico Normale Ma guardate Guardate Dove sto indicando Questi sono Dei personaggi Di fortnite Ragazzi Questi sono Dei personaggi Di fortnite Non arrivano Neanche Alla base Della suola Del piede Ho delle altre Immagini E' assurdo Pensare La dimensione Di questo Robot Questo è Intanto Il pack Decriptato Originale E si vede Che il colore E' azzurrino Potrebbe però Non essere Quello In quanto I colori Non li si vedono Fino a che non viene Proprio Inserita In game L'animazione O comunque La cosa Il modello In 3D Sotto vediamo Che ha dei propulsori E probabilmente Il robot Potrà Spingersi Verso l'alto Propulsori Tra l'altro Che sono presenti Anche come Il ballo Presente In questo Pass battaglia E sono Inerenti Al robot Quello del Pollazzo In poche parole Avete capito Benissimo Come si chiama Guardate Delle immagini Che raffrontano Le dimensioni Solo Del piede Quello là E' un autobus Ok Ma questi ragazzi Sono i magazzini Disprofondo Stantio Sono più piccoli Del piede Ragazzi Dimensioni Esagerate Questa è l'impronta Quella che è presente Dove c'è il lago Ghiacciato Vicino all'ex Boschetto Bisunto E addirittura Si vede Che il piede Stesso E' alto La metà Del castello Di picco polare Parliamo ragazzi Di un Qualcosa Di enorme Anche qua Guardate Questi sono i camion Di respawn Guardate che rapporto Rispetto Al piede Ma andando avanti Ragazzi C'è una C'è Un'altra Cosa Importantissima Sappiamo Che il robot Verrà Spoilerato Decryptato A parti The way Texture Are put on to measure Something called UV maps Allora C'è una mappa Che adesso vi faccio vedere Che è uno spaccato Che ci fa vedere Anche se noi Ne capiamo poco Tutte le parti Del robot Intanto Ve le dico in ordine Piede sinistro Quello che vi ho fatto vedere È Polpaccio destro Polpaccio sinistro Taiga Sarà la coscia Credo Coscia sinistra Il torso Bicipite sinistro Bicipite destro E avambraccio sinistro Queste sono le prime Otto fasi Del robot Che sono state Scoperte E che verranno Probabilmente Decryptate E poi assemblate Da questa immagine Ragazzi Altre immagini Interessanti Sono relativi All'evento Cactus Perché ci saranno Dei manifesti Che dicono Duck and hover Quindi Sinceramente Non ha molto senso Tradotto Quindi potrebbe essere Uno slang Che non conosco Ma take the ground Quindi costruisci anche Verso l'alto Potrebbe essere inteso E we can build it Noi possiamo Costruirlo Ragazzi Le cose sono davvero Incredibili Parte Tutta la fase finale Della season 9 Questo robot Non appena si saprà Qualcos'altro E secondo me State attenti Perché potrebbe essere In qualsiasi ora Voi saprete Tutto quello che c'è da sapere Io vi ringrazio tantissimo Per avere guardato questo video Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi Ci vediamo tra poco In live Alle 8 Ciao